Stasera al Pala di Concilio di Agropoli andrà in scena la terza edizione del Memorial Fratelli Giambirini. Al torneo, oltre la padrona di casa Cilento Basket, parteciperanno anche la Cesarano Basket Scafati, il Basket Sarno e la Virtus Pozzuoli. La Cilento Basket Agropoli in questa ricorrenza vuole ricordare due persone eccezionali come i fratelli Giambirini, che hanno dato molto al movimento cestistico agropolese. L'appuntamento è di quelli importanti, quattro squadre impegnate nel campionato di C-Nazionale, con Pozzuoli che nell'anno passato è andata vicino allo salto di categoria. La Cesarano Scafati arriva dalla vittoria nei play-off contro il Basket Bellizzi, mentre il Basket Sarno è stata ripescata proprio dall'ultimo campionato di Serie C regionale. Un torneo molto avvincente in cui ci sarà anche la possibilità di vedere i volti nuovi e quelli già noti della Cilento Basket Agropoli.